Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui sul canale. Ragazzi, il primo video del 2021, quindi il rinnovo ancora a tutti quanti voi che mi state seguendo, gli auguri di un buon 2021 che sia per voi un anno decisamente migliore rispetto a questo 2020, davvero molto molto complicato per ognuno di noi. Partiamo con il 2021, i buoni propositi su questo canale, cercherò sempre di tenervi compagnia nell'arco delle settimane con notizie, approfondimenti sul mondo della MotoGP e il primo video sul 2021, beh, come argomento non potevo chiedere di meglio, perché partiamo con una notizia veramente veramente clamorosa. La prima notizia che riguarda appunto la MotoGP su questo canale del 2021 è un trasferimento da record. Ufficiale ormai da un paio di ore, Davide Brivio, il team manager della Suzuki, lascia la MotoGP dopo 30 anni di militanza per approdare alla Formula 1. Sarà il team manager dell'Alpine, l'ex Renault in Formula 1, quindi un trasferimento da record, un trasferimento scioccante, clamoroso, inaspettato. Innanzitutto si tratta del primo trasferimento di questo genere, perché non era mai accaduto nella storia del motociclismo e anche nella storia della Formula 1 che un manager così importante passasse dalla MotoGP alla Formula 1. Era accaduto nel 2019 una cosa simile, però riguardava Massimo Rivola, un team manager che però dalla Formula 1, dalla Ferrari nello specifico, era passato all'Aprilia, sempre nelle funzioni di team manager, quindi un trasferimento di questo tipo lo abbiamo avuto. Però Davide Brivio è sicuramente un nome clamoroso e importante, sono 30 anni di motociclismo per Davide Brivio, una storia vincente, una cavalcata fantastica, quella dello scorso anno in Suzuki, al fianco di Juan Mir, ma non solo quello, Davide Brivio è l'uomo che ha portato Valentino Rossi in Yamaha, è l'uomo che ha scoperto tanti talenti giovanissimi in Suzuki, l'uomo che ha portato la Suzuki a vincere il suo primo titolo in MotoGP, quindi nell'era moderna per quanto riguarda il moto mondiale, quindi veramente stiamo parlando di un fuoriclasse nel suo ruolo. Approderà all'Alpine, molto probabilmente in Formula 1, questo è ancora da ufficializzare, però le fonti ormai sono certe, ormai si tratta solamente di questioni di tempo, perché molto probabilmente già nella serata di oggi, ma anche nella mattinata di domani avremo già questa ufficialità. Davide Brivio quindi approderà in Formula 1, ed è un trasferimento incredibile, perché cambierà completamente il suo genere di lavoro, e quindi veramente molto molto coraggio per Davide Brivio, un trasferimento, ricordo veramente, ve lo ricordo, scioccante. Una notizia incredibile, nessuno fino a ieri era, poteva mai pensare una cosa simile, sicuramente è stato un fulmine al cielo sereno da questo punto di vista, rimane per Davide Brivio l'ultima soddisfazione, quella dello scorso anno, ripeto, con Mir, un mondiale vinto con la Suzuki, veramente contro ogni pronostico. Ho qui riportato nei miei appunti le parole di Davide Brivio, il suo connubio finale al Moto Mondiale, quindi un saluto alla Suzuki, e ve ne vado a leggere per poi commentarle insieme. Una decisione difficile da prendere, ha detto Davide Brivio, ma sono molto motivato, mi è stata presentata una grande opportunità, una nuova opportunità, ho deciso di coglierla. Quindi qui si capisce come per lui è stato veramente molto complicato lasciare il suo posto in Suzuki, lasciare il Moto Mondiale in generale, ma l'opportunità della Formula 1 per lui era troppo ghiotta, sicuramente un uomo dal grande carisma, dal grande orgoglio, è sicuramente curioso di provare nuove sensazioni, nuove emozioni in altri ambiti. Dura lasciare questo gruppo di persone con cui è partito il progetto Suzuki, da questo punto di vista sono veramente molto triste, ma ripeto, sono motivato per la nuova sfida, quindi veramente lascia un gruppo di persone affiatato, erano ormai 2-3 anni che in Suzuki avevano lo stesso gruppo di persone, quindi un progetto di crescita molto importante. Conquistare un titolo per la MotoGP con la Suzuki è un qualcosa di storico. Ringrazio i piloti, ringrazio Mir, ringrazio tutto il management, sarò sempre un loro fan. Quindi ringraziamenti finali, molto molto toccante queste parole di Davide Brivio che lascia praticamente il ruolo in Suzuki e adesso lo Suzuki si aprirà comunque un toto mercato perché dovranno sostituire Davide Brivio. Mi aspetto comunque un nome, non dico della stessa importanza perché ce ne sono pochi in giro di manager come lui, però mi aspetto comunque una reazione, un nome comunque importante anche da questo punto di vista in casa Suzuki. Molta curiosità, Davide Brivio andrà in Formula 1, ho appunto segnato i miei punti a fare il manager praticamente di Fernando Alonso ed è una grande curiosità questa qui perché lui è passato ad essere il manager praticamente di Valentino Rossi a scoprire grandi talenti in casa Suzuki, vi cito alcuni, Rins ma anche e soprattutto Vignales, Mir quest'anno che comunque è il direttore campione del mondo, a adesso accudire tra virgolette Fernando Alonso il suo ritorno in Formula 1, quindi veramente con una scuderia che si appresta ad essere una delle sorprese. Il prossimo anno in Formula 1, ricordo per gli amanti anche della Formula 1, tre podi in questa ultima stagione per la Renault che quest'anno diventerà Alpin e sicuramente con Davide Brivio e con Fernando Alonso sicuramente avremo a che fare con una stagione per la Formula 1 molto molto importante da questo punto di vista, ci sono nomi importanti in casa ex Renault, l'odierna Alpin. Si confronterà con uno sport completamente diverso dalla MotoGP, sarà difficile per lui ambientarsi nei primi momenti perché avrà a che fare con team e con squadre, con coppie veramente collaudate da un paio di anni, però avrà il supporto di tutto il management della Alpin, quindi Davide Brivio che sicuramente è un manager da grande occhio, di grande intelligenza, sicuramente riuscirà a cavarsene in questi primi mesi che saranno veramente molto molto complicati. Però lui è molto famoso per questo, lui è un grande conoscitore di talenti, è un grandissimo manager per quanto riguarda le relazioni umane, quindi veramente l'Alpin ha scelto veramente il meglio possibile per quanto riguarda il mondo MotoGP. Vi riporto anche le parole del leader della Suzuki, del project leader della Suzuki, Shinichi Sahara, che ha appunto detto colgo questa notizia con grandissimo dispiacere, ho perso più di un amico, una parte di me, lui appunto dice, una notizia scioccante per tutti noi, risultati che sono stati epici in questa stagione anche con il problema Covid, troveremo la soluzione migliore, gli auguro il meglio, quindi veramente un connubio che era speciale, quello fra Davide Brivio e la Suzuki, ripeto, 8 anni, Davide Brivio alla guida della Suzuki come team manager, adesso andiamo un po' a ripercorrere brevemente la storia di questo grandissimo manager, 30 anni in MotoGP, lui è l'uomo che ha convinto, due anni dopo la sua assunzione nel 2001 in Yamaha, quindi nel 2003, ha convinto Valentino Rossi a portare appunto Valentino Rossi in Yamaha, quindi veramente si tratta di un manager molto molto capabile e capace, la Yamaha che torna a vincere, grazie a Davide Brivio e grazie a Valentino Rossi, poi abbiamo l'addio di Davide Brivio alla Yamaha per approdare come manager unico di Valentino Rossi, insieme Rossi e Brivio tentano la scalata in casa Ducati, purtroppo senza risultati positivi, poi Davide Brivio aveva bisogno nel 2013 di tornare a vestire i panni di un manager importante, di una scuderia comunque importante e storica come la Suzuki, e qui arriva la chiamata, da parte della scuderia in blu, 2013 Suzuki, poi due anni fa, la scelta di puntare in maniera molto importante su Rins e su Mir, una scelta che comunque è stata contestata nei primi tempi, perché ha scelto Mir, un pilota che in Moto2 non era molto veloce, era un pilota che aveva delle grandi difficoltà in Moto2, lui da grande occhio, da grande conoscitore di talenti, prende Mir, lo porta in MotoGP, gli dà una moto ufficiale, e poi con i risultati di quest'anno, veramente strepitosa la loro vittoria, quest'anno in MotoGP, la Suzuki che ha fatto bingo, beccando appunto tra i manager svincolati, Davide Brivio, veramente un grandissimo talento, ovviamente i piloti che lui ha scoperto, Vignales, Mir, Rins, Suzuki è stato veramente strepitoso, il titolo due anni dopo aver scelto Mir, lo ripetiamo, perché Mir era la seconda guida quest'anno, lui è riuscito a portare la sua seconda guida, un pilota veramente molto giovane, a vincere immediatamente il Mondiale, quindi veramente grande, grande talento per Davide Brivio. Ragazzi, questo era il primo video del 2021, io vi invito a mettere like se questo video è piaciuto, vi invito a commentare, fammi sapere la vostra nello specifico, quanto influirà l'assenza di Davide Brivio l'anno prossimo, nel paddock della MotoGP, e in particolare in Suzuki, avranno delle ripercussioni interne queste scelte, vi aspetto comunque nei commenti, vi invito a iscrivervi a questo canale, se non volete perdervi nessun aggiornamento sui miei video futuri, ragazzi, io vi saluto, ciao a tutti da Domenica Versa, ciao a tutti raga!